La via dove il bello si respira, via Roccalavera, la via della poesia, ammirando un panorama meraviglioso, questo è il panorama che si vede veramente da suo fratello, questo è lo spettacolo che si vede dal crocifisso, da 10 miglia e dalla Roccaforte, dal piazzale San Nicolò, è una cosa meravigliosa, come si fa a non emozionarsi guardando uno spettacolo del genere, questo è un dipinto, ma è dipinto dal vero, perché è questo quello che vediamo nelle giornate limpide, uno spettacolo. E questo emoziona, tocca i cuori, tocca profondamente l'anima. Sì, emoziona sì, come si fa a non emozionarsi, io la prima volta che ho visto questo spettacolo mi si è riempita l'anima, mi si è riempito il cuore, dico ma non è possibile che c'è un posto dove si vede una cosa meravigliosa così, ma è vero, è vero, non sto dicendo storie, io la prima volta che ho visto le isole dal piazzale San Nicolò, da 10 miglia, io la sera quando venivamo qui in vacanza, la sera io andavo a vedere là in fondo, si vedevano le luci delle isole, tutte le sere per un mese, il mese delle vacanze, io andavo a vedere queste luci, perché mi dovevo riempire gli occhi, perché quando tornavo a Milano dovevo avere questo ricordo impresso, è spettacolare, ed è vero, è reale, questo è un dipinto, ma quello che si vede è questo, si vedono tutte le isole, quando è limpido si vede addirittura stromboli, in mezzo alle altre isole si vede questa punta, è da vedere, venite a San Fratello. Grazie. Grazie a voi.